Sono Adriano Abbado e mi occupo di arte digitale dal 1981. Ho portato due oggetti, il primo è un computer Yamaha CX-5M2 e il secondo è un manifesto relativo alla mia partecipazione alla Biennale di Venezia del 1986. Il computer Yamaha fu innovativo per quei tempi perché aveva delle caratteristiche musicali davvero interessanti e questo mi ha consentito di creare sia le immagini ma anche i suoni per l'animazione cittorbitale. Si trattava quindi di uno strumento letteralmente audiovisivo. Viceversa il lavoro Isomorfismi su una luce a cui fa riferimento il manifesto fu realizzato con un computer Commodore Amiga 1000 che aveva delle proprietà grafiche molto particolari per l'epoca.